Mi presento brevemente con un'immagine che racconta un po' il tema di cui ci occupiamo oggi, un'immagine d'epoca che mostra Modigliani, Picasso e il sottoscritto, quello sono io accanto a loro. Ovviamente sono vecchio, ho qualche anno sulle spalle, ma non così tanti. Quest'immagine non è modificata, quando me l'hanno mandata io ho pensato, caspita qualcuno è stato molto bravo con Photoshop, ha preso un'immagine, una mia foto, ci ha messo la faccia in fianco a Picasso e Modigliani e ha fatto questo falso artistico, chiamiamolo così. Invece no, perché la foto è così nei musei, mi hanno mandato gli originali, ho visto che effettivamente è così. Allora mi ha incuriosito molto questo fenomeno, come è possibile che ci sia questa fotografia e questo è il tema di cui ci occupiamo oggi, bufale e disinformazione. Come attraverso internet, ma anche attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, stampa, giornali, telegiornali, radiogiornali, si diffondono queste notizie sbagliate, false, che si possono articolare in vari modi, quindi facciamo un piccolo giro di terminologia giusto per capirci. Esistono per esempio le bufale, le bufale è quella cosa tradizionale, quella storia che viene presentata come se fosse vera, in buona fede, cioè credendoci. A volte il falso è intenzionale, però di solito l'intento è quello di condividere con gli amici. Sai, ho saputo che nelle fogne di New York ci sono gli alligatori che sono stati messi lì dai proprietari. Sai, negli anni 70 c'era questa moda di avere i rettili in casa, però poi chi stava in appartamento a New York si è reso conto, sai, gli americani sono un po' lenti in queste cose, allora si sono resi conto dopo che il coccodrillo o l'alligatore cresce, se gli dai da mangiare, quindi dopo un po' te ne devi sbarazzare, cosa fai? Invece di portarlo in pelletteria, lo metti giù dal water, così finisce nella fognatura e lì cresce. E ovviamente trovando da mangiare, perché fa fuori i topi e tutte le altre bestie che stanno nelle fogne, e poi diventa albino, perché ovviamente non prende il sole, un po' come i traduttori e gli informatici, siamo tutti un po' albini perché non vediamo mai la luce del sole. Quindi storie molto accattivanti, infatti una delle cose che accomuna tutte queste storie, queste bufale, è il piacere anche, non solo la narrazione che è piuttosto dettagliata, cioè un luogo, un momento, un evento particolare e preciso, ma anche il piacere di raccontare la storia, che ovviamente diventa popolarissima, perché è una storia accattivante e soprattutto sono storie che lavorano molto sulle emozioni, questo è un tema che vedremo molto spesso ricorrere nel corso di questa chiacchierata. La storia, la bufala, la notizia falsa e vera non è mai una questione clinica assettica, ha sempre a che fare con i nostri sentimenti, con le nostre emozioni, i nostri pergiudizi, le nostre paure, le nostre speranze. E infatti questo è uno dei temi fondamentali delle bufale, le bufale tendono ad avere successo se rinforzano dei pregiudizi o dei preconcetti, e ne vedremo alcuni esempi in concreto. Se qualcuno se lo sta chiedendo, come mai si chiama bufala, è una domanda che mi fanno sempre, per cui ho addirittura preparato la slide apposita, la risposta è non lo sa nessuno. Se volete approfondire la questione, ci sono alcuni etimologi che dicono che è un termine italiano che deriva dal romanesco, ce ne sono altri che dicono che è bufalo perché è una persona che, come i bufali, si prendono per il naso, quindi vengono presi in giro come gli animali, oppure si parla di questo antico, di questa antica tradizione della bufalata, che sarebbe stata una specie di palio medievale, oppure addirittura quelli che dicono no, il bufalo era il travestimento del cacciatore, ovviamente un cacciatore piuttosto corpulento che andava in giro e con questo costume da bufala, quindi il cosplay in un certo senso esisteva già in epoche non sospette. E questo è il primo gruppo, il primo termine è questo della bufala, sono storie così intriganti, curiose, leggere però di solito, variante sul tema della leggenda metropolitana, la leggenda metropolitana è una storia di solito abbastanza inconsueta, una storia che viene raccontata con piacere, anche questa, a volte in modo più vago si dice che sia successo questo, ha un po' più i toni della leggenda appunto, e molto spesso hanno queste storie che vengono raccontate dei messaggi morali, per esempio c'è la storia degli amanti incastrati, non so se l'avete mai sentita, più o meno è successo in tutte le città, di solito l'ambientazione è questa, c'è lui e lei che non sono marito e moglie, ma sono legati da un amore trasgressivo, per esempio molto spesso è la testimone con lo sposo o il testimone con la sposa, insomma si appartano nel giorno del matrimonio, lei deve sposare qualcun altro, ma lei è il testimone, si appartano un momento, vanno in bagno, consumano un ultimo rapporto prima del matrimonio, ma i meri rimangono incastrati e poi deve arrivare l'ospedale, l'ambulanza arriva, c'è il medico con la siringa apposita, perché c'è un speciale prodotto, secondo questa leggenda, e tutte le ambulanze sono dotate di questa soluzione che come dire scioglie il problema, però tutta questa storia funziona e vedo che la cosa piace sentirla raccontata, funziona perché è divertente, è una bella storia, però ha un messaggio morale di fondo, quindi c'è il piacere di raccontare queste storie e lo si racconta come sto facendo io adesso in questo momento, verbalmente, così, fra gli amici, sono quei racconti da tenda, da campeggio, racconti da bar, da ristorante, ed è un piacere, questo è uno degli effetti, uno dei risultati del racconto, è proprio quello di divertire, di divertirsi e di sentirsi gratificati, perché tendiamo a mandare ai nostri amici, a condividere le cose che troviamo su Facebook, perché le riteniamo divertenti e ci piace essere protagonisti, facciamo un favore ai nostri amici, però questo significa anche che le storie di questo genere vengono amplificate tantissimo dai giornali, finisce che, dato che ormai c'è una contiguità fortissima fra il mondo digitale, la chiacchiera da bar messa online e la stampa e il giornalismo, molte di queste storie finiscono per essere prese dai giornali come se fossero autentiche, e qui purtroppo finisce che ci sono dei guai. Teniamo presente però una cosa importante, facciamo un passo indietro dal punto di vista della storia, non si tratta di un fenomeno nuovo, non si tratta di cose che sono state inventate l'altro ieri, per carità, anzi addirittura c'è Marcel Bloch, che era uno storico francese, negli anni 20 già diceva che le leggende di guerra, le dicerie che venivano diffuse a proposito del nemico, o le leggende positive a proposito dei propri soldati, servivano per esprimere paure e pregiudizi già all'epoca. E questo è un altro versante della disinformazione, delle cose che leggiamo online e offline. Esiste anche questo fenomeno della fabbricazione delle fake news, un termine che ormai ci ha nauseato, tanto se ne è parlato, però è importante conoscerne in retroscena, perché se so come funzionano questi meccanismi posso difendermi, se non so come funzionano è più facile che mi freghino. Per esempio questa è una notizia che è uscita un po' di tempo fa, ottobre dell'anno scorso, un'immagine molto forte, questa immagine urlata di questa persona che ha gli occhi sgranati, che ha chiaramente una connotazione arabeggiante e si parla del fatto che la Svezia ha bandito le luci di Natale nei posti pubblici perché i rifugiati musulmani hanno protestato. Una storia di quelle che funziona moltissimo, tant'è vero che viene condivisa 43.000 volte su Facebook. Viene pubblicata da un sito che è molto popolare, viene pubblicata da Milo Iannopoulos che è legato a Breitbart, che è un nome che torneremo molto spesso a sentire in occasioni come questa. Quindi ha un forte impatto emotivo, questi 43.000 condivisori però non sanno che stanno diffondendo una bufala, non è vero niente, in realtà andando a chiedere alle autorità locali, che sarebbe quello che un buon giornalista dovrebbe sempre fare, andare alla fonte della notizia, salta fuori che in realtà le luci di Natale sono state vietate per motivi di sicurezza, nel senso che gli svedesi erano talmente appassionati nel montare luci di Natale dappertutto che sovraccaricavano i circuiti degli lampioni, c'era un pericolo che qualcuno si facesse male, per cui il comune ha deciso no, per favore, vietiamole, ma non perché c'erano i rifugiati che lo chiedevano, ma questa storia funziona. Nessuno di quei 43.000 si è fermato a chiedersi, ma che senso ha una storia di questo genere? Quindi questi meccanismi sono non più semplice racconto di una storia che può essere più o meno divertente, sono dei meccanismi di comunicazione d'odio, creano divisioni, creano allarmi che in realtà almeno su questo versante sono ingiustificati, questa notizia è falsa, c'è qualcuno però come Milo Iannopoulos che lavora sull'odio per avere un risultato. Milo Iannopoulos è legato, fino a poco tempo fa, era legato a Breitbart, che è un sito di estrema destra negli Stati Uniti ed è il più letto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Donald Trump per informarsi sulla realtà va in siti come questo, poi non stupiamoci delle decisioni che prende. Per carità, niente di nuovo sotto il sole, le notizie false a scopo di propaganda ci sono sempre state, la donazione di Costantino in tempi molto remoti o se volete ancora i protocolli dei Savi di Sion sono fenomeni, sono falsi, intenzionali fatti per ottenere un ritorno politico, strategico e via dicendo. Tuttora questi documenti, questo documento in particolare, i protocolli dei Savi di Sion vengono presentati in molti paesi, paesi arabi e in Russia, come autentici, come prova del complotto degli ebrei contro il resto del mondo. In realtà l'analisi tecnica dimostra che queste sono fabbricazioni fatte in tempi molto più recenti, oggi abbiamo degli strumenti di analisi oggettiva dei testi che ce lo possono confermare, però questo è lo scenario in cui ci muoviamo. Ci sono da tempo dei meccanismi di manipolazione delle opinioni che adesso si sono trasformati grazie alla presenza di internet. Vi faccio un esempio più frivolo, più leggero, io sono un appassionato di esplorazione spaziale, questa che vedete è una copertina famosissima, prima pagina anzi, famosissima, quella del messaggero, questo titolo bellissimo, Luna, primo passo, che ricorda la nota del primo sbarco sulla Luna, 1969, solo che tutti, anche nei musei, si fermano a guardare questo titolo gigante, in realtà oltre al titolo c'è un'altra cosa che ci dovrebbe colpire, che è il fatto che siamo nel 1969, quindi in epoca pre-digitale, non c'erano i telefonini, non potevi farti il selfie istantaneo, metterlo su Instagram, come facevano, gli astronauti erano ancora sulla Luna quando è uscito questo giornale, come facevano avere la foto dell'impronta? Niente, il giornalista è andato con un fotografo sulla spiaggia di Ostia, posso fare nomi e cognomi, è andato sulla spiaggia di Ostia, ha preso uno con uno stivale da pesca, ha detto facciamo la foto, la mettiamo sul giornale, tanto chi vuoi che se ne accorga, giusto a titolo di documentazione di questa cosa, questa è l'impronta presentata dal messaggero, questa è una ricostruzione tecnica del personaggio che si è offerto come modello per la fotografia e questa è l'impronta vera, tra l'altro bufala nella bufala, moltissime persone credono che la fotografia dell'impronta autentica sia la foto del primo passo sulla Luna, no, assolutamente, è semplicemente una delle tante orme che sono state lasciate sulla superficie lunare, questa è stata fotografata dal secondo uomo sulla Luna a scopo di documentazione tecnica, cioè prendiamo una zona di terreno libero, mettiamoci un'impronta, vediamo come si comportano gli scarponi che tipo di impronta lasciano, così capiamo la consistenza della superficie lunare. Quindi ci sono tanti livelli di bufale e storie di questo genere, però queste sono versioni tradizionali, siamo abituati al fatto che anche nei giornali escono le notizie false, siamo abituati a pensare che magari ogni tanto qualche scorciatoia la devi prendere perché ti manca il materiale. Per oggi le cose sono cambiate parecchio, non solo perché c'è internet che velocizza tutto questo fenomeno, ma anche perché ha consentito nuove forme di bufala o di manipolazione della realtà o di false notizie. Per esempio un fenomeno che ha cominciato a avere un grosso successo da qualche anno a questa parte, grazie anche all'esistenza dei social network, è quello della fabbricazione di notizie false per puro profitto, cioè qui non c'è più una motivazione ideologica, politica, ma c'è il semplice intento di guadagnare dei soldi, buttando in giro delle notizie false che possano creare interesse. Quello che vedete qui per esempio è una condivisione, Renzi dice che italiani troppo legati ai soldi nella vita ci sono altre priorità, una delle cose che se la legge ti incazzi subito, dice come, come si permette lui. Da dove viene questa cosa? Citata su Facebook da Roberto Maroni, quindi un politico che denuncia una dichiarazione inaccettabile di un suo collega, la fonte è il Corriere del Corsaro.it, non il Corriere della Sera, il Corriere del Corsaro, che è un sito che fabbrica bufale. Renzi non ha mai dichiarato una cosa di questo genere, non ha mai detto queste parole, Maroni non si è fermato a controllare, l'ha inoltrato a tutti i suoi seguaci. Ed è così che nasce una bufala. Questa che vedete in fianco, un'altra dichiarazione, gentiloni shock, gli italiani imparino a fare sacrifici e la smettano di lamentarsi. È un tipo di dichiarazione attribuita a politico che funziona sempre, a distanza di qualche tempo. La fonte qual è? Ancora una volta non è il giornale, non è l'attestata libero, non è l'attestata il giornale, ma è il sito liberogiornale.com, che non c'entra niente con le testate giornalistiche, è un sito che inventa notizie e fa parte di una rete di fabbriche di fandonie. Questo è un business, questo è un commercio puro, questa è una rete, un organigramma dell'associazione, questa è una casa editrice, Edinet, con sede in Bulgaria, gestita da un italiano. Per questo schema ringrazio il mio collega David Puente, che è riuscito con degli strumenti tecnici a risalire, a ricostruire la mappa di questi siti apparentemente slegati fra loro, ma in realtà dipendenti tutti dalla stessa casa editrice, il risultato è che abbiamo controcultura, liberogiornale.com, notizia5stelle.com, siti che non c'entrano niente con i movimenti politici o con le testate di cui richiamano il nome. Abbiamo news24tg.com, non c'entra niente con SkyTG24, è una testata inventata, che però richiama chiaramente il nome di una testata molto popolare. Questo genere di fabbricazione di notizia non ha nessuna motivazione politica, l'unico obiettivo è quello di creare click. Vedi la notizia, ti indigni, ci clicchi sopra, la condividi con gli amici, che così andranno a vedersela anche loro. Quindi finisci tu utente per diventare un propagatore di bufale e soprattutto un procacciatore di soldi per qualcun altro. Questo è uno dei meccanismi piuttosto perversi che sono stati resi possibili dall'esistenza dei social network e anche dalla dinamica, dalla struttura dei social network. Questo è un altro paio di esempi presi dalla cronaca abbastanza recente. Trump in lacrime, mi dimetto, non voglio farli presidente. Svolta shock in America. Magari qualcuno di voi ci dice, magari. No, non è assolutamente vero, è una notizia inventata ed è stata pubblicata dal sito di cui vedete il nome là in alto. Quanti di voi si sono accorti che non c'è scritto il fatto quotidiano, ma c'è scritto il fatto quotidiano. Il fatto quotidiano è una testata inventata che pubblica Fandonie sperando che la gente ci caschi e come vedete ci cascano in molti. Anche qui, Putin, se l'Isis si avvicina all'Italia siamo pronti a sganciare l'atomica. Sì, scusa, dove? Cioè sull'Italia o sull'Isis? Sarebbe carino precisarlo prima. Notizia assolutamente inventata, fonte della notizia non è quello che vedete lì in alto, il nome che vedete lì scritto, non è ilgiornale.it ma è ilgiomale.it, un altro di quei siti che conta sull'inganno ottico per confondere i lettori. In entrambi i casi questo genere di disinformazione viene facilitato dalla struttura stessa di social network. Questo è un problema tecnico, non è un problema di informazione, è proprio un problema di layout di pagina. Queste sono due notizie, una vera e una falsa, entrambe pubblicate su Facebook, vedete che hanno la stessa struttura, Facebook prende automaticamente l'immagine principale, la fa diventare grande, prende il titolo della notizia e poi lo riconfeziona prendendo le prime due righe del testo, ma riconfeziona tutto in modo uguale e io non ho modo di sapere in modo istantaneamente percepibile qual è la fonte di questa notizia. Devo andarmela a cercare in basso a sinistra, in grigino, che se siete ipovedenti o anche semplicemente distratti o avete un telefonino con lo schermo piccolo, è facile non accorgersi. In questo caso abbiamo come fonte il Corriere la Sera, milano.corriere.it, qua abbiamo il giornale italiano.it, quale dei due è un giornale vero e quale no? Per un utente distratto è molto facile cascare nella trappola, quindi abbiamo questo fenomeno nuovo, se so che esiste posso difendermi, devo prendere l'abitudine di guardare sempre in basso a sinistra e controllare la fonte della notizia. Ovviamente poi ci sono anche altri strumenti che vedremo in seguito, però almeno questo piccolo controllo, sapere che esiste questo desiderio di fare soldi diffondendo notizie false è importante. Però non c'è solo un problema tecnico, c'è anche un problema giornalistico. Io come giornalista sono confrontato, qualcuno di voi mi conosce come cacciatore di bufale, sono confrontato spesso con le notizie false messe in giro dai miei colleghi. Giusto per esempio questa, questa è RAI, non stiamo parlando quindi del giornaletto di provincia, stiamo parlando della RAI o del Tempo che dice Donald Trump ha dichiarato la statua della libertà è anacronistica, in città l'immigrazione non la vogliamo. Non è vero niente, la notizia è completamente inventata ma funziona benissimo, a chiappa click, nessuno va a verificare la fonte originale di questa notizia che è un articolo satirico, è un'intervista inventata da un giornalista americano dove nell'originale c'è scritto chiaramente questa non è un'intervista inventata ma chi l'ha letta di corsa in redazione l'ha presa per vera, ha detto senti cosa ha detto Trump e quindi l'ha pubblicata esattamente così. Quindi c'è anche un problema di qualità dell'informazione, oggi siamo tutti sotto pressione anche nelle redazioni, i soldi sono pochi, ci sono pagamenti per il lavoro del giornalista che sono veramente miseri, cioè se avete mai pensato di fare il giornalista nella vita cambiate idea, se i vostri figli hanno la vocazione di fare il giornalista dite guarda vai a fare qualunque cosa, fai il proctologo, guadagnerai sicuramente di più e probabilmente ti troverai anche in un ambiente più pulito per certe cose. Ma la cosa che a me stupisce è come spesso questi meccanismi non sono semplicemente dovuti alla distrazione, alla fretta, alla pressione di produttività obbligatoria ma lavorano molto sui pregiudizi. Questa è una foto che ha fatto il giro del mondo, a marzo di quest'anno l'attentato a Londra quando l'automobile ha travolto dei pedoni e questa foto è stata presentata come la dimostrazione dell'indifferenza dei musulmani nei confronti di una tragedia che ha colpito i londinesi. Questa donna passa di lì, c'è un uomo riverso per terra, gente che le sta aiutando eccetera, lei chi se ne frega passo oltre. Questa viene presa per esempio da un nome e un programma, questo personaggio che si chiama Texas Lone Star che si dichiara un orgoglioso texano e patriota americano, quindi si è già definito piuttosto bene, ovviamente con hashtag Trump 2016, hashtag Trump Pence eccetera eccetera e poi tutto il resto contro l'Islam e la correttezza politica e la presente dicendo ecco donna musulmana ignora il terrore e l'attacco terroristico, se ne passa, cammina disinvoltamente ignorando un uomo che muore, intanto lei sta controllando il suo telefonino. funziona tantissimo perché noi abbiamo l'illusione che un'immagine non possa mentire, il problema è che in una fotografia manca molto spesso il contesto, quello che un buon giornalista dovrebbe fare ma anche un buon utente dovrebbe chiedersi ma è possibile? Siamo sicuri che mi abbiano raccontato tutto quello che c'è da sapere di questo evento? Infatti andando a cercare le altre foto di agenzia fatte nello stesso momento alla stessa donna salta fuori che in scatti appena successivi o precedenti ha espressioni come questa che non sono quelle della persona indifferente e se selezioniamo ad arte le fotografie possiamo creare qualunque cosa, per esempio se si vuol parlare di indifferenza, guardate come sono indifferenti queste persone mentre succedono sempre nello stesso momento, questo è un passante, sul ponte c'è un uomo riverso e c'è un signore che passa disinvolto come se stesse andando in ufficio, una cosa che succede tutti i giorni, c'è un cadavere per terra, sì ma a me mi capita spesso di vederne. Perché queste storie non fanno notizia? Perché sono due bianchi, sono due uomini e quindi non interessano a nessuno, la donna musulmana perfetta, c'entra un target di odio che funziona molto bene. Quindi quando vediamo le informazioni proviamo sempre a chiederci mi viene raccontata tutta la storia e soprattutto ci sono per caso di mezzo di pregiudizi? Questo è un caso classico, vi ricordate il questionario inglese che schedava a parte i gruppi linguistici, c'erano gli italiani, poi c'erano i napoletani e i siciliani e invece la notizia non era assolutamente vera, non c'era nessun intento di pregiudizio regionalistico o di altro genere, semplicemente questa è una classificazione linguistica. I siciliani e i napoletani che si sono indignati in realtà dovrebbero essere contenti perché il siciliano, il siculo e il napoletano sono classificati a livello internazionale come lingue, non come dialetti, quindi si poteva scegliere, in questo questionario del governo britannico, se dichiarare come propria lingua principale l'italiano o il napoletano e il siculo. Quindi molto spesso siamo noi che vogliamo interpretare in modo polemico le notizie, anche qui un po' di controllo delle fonti è sempre prezioso. Siamo lontani anni luce quindi dai vecchi tempi, io mi ricordo quando ho cominciato a fare questo mestiere, mi divertivo tantissimo, adesso un po' meno, perché le leggende, le storie e le bufale erano di questo genere, questo è un classico, Bonsai Kitten era questo sito che prometteva agli acquirenti di poter acquistare dei gattini allevati in bottiglia, c'è il gattino appena nato, ha lo scheletro molto malleabile, quindi lo prendi, lo ficchi dentro la bottiglia, questo cresce, assume la forma della bottiglia e fa indicibili sofferenze, prende questa forma un po' strana, poi muore e ne compra un altro. E quindi ovviamente è partita la campagna contro Bonsai Kitten, a cui è partecipato anche Repubblica, cui mici condannati a crescere in bottiglia, qui è Ferruccio Sansa, siamo nel 2002, che descrive in maniera decisamente truculenta, epica, questo dramma sociale degli allevatori di gattini in bottiglia, ed è tutta una bufala, inventata da un gruppo di studenti di una scuola, di un'università americana, per vedere che tipo di reazione ci sarebbe stata. E questa storia funziona perché fa leva sulle nostre emozioni. Funziona perché nella versione originale c'era scritto che era un giapponese che allevava gattini in bottiglia, abbiamo sempre paura del diverso, e soprattutto fa leva sul fatto che i gattini sono degli animali adorabili, tenerissimi. Provate a prendere la stessa storia e cambiare questi due parametri, c'è un bergamasco che alleva salamandre in bottiglia, e chi se ne frega, e faglielo fare. Invece se sentite c'è un giapponese che alleva gattini in bottiglia, scatta subito la trappola emotiva. Ovviamente è inutile spiegare che la fotografia del gattino pigiato dentro la bottiglia è fatta con un semplice trucco fotografico, abbiamo addirittura creato foto di giornalisti allevati in bottiglia, non è servito a niente. Questa storia periodicamente riemerge, però comunque diciamo che non ha un danno sociale così grave, ce ne sono altri che invece causano danni decisamente più importanti. Questa per esempio è una storia che a me è inquietata moltissimo, io abito in Svizzera, nel canton Ticino, e ho preso dal giornale locale, il giornale del popolo, questa storia, sterilizzazione di massa dietro il vaccino. La storia che viene raccontata come fatto da questa testata, ma anche dalla testata italiana a tempi.it, è che la Chiesa Cattolica e i medici riescono a fermare l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, che stava per sterilizzare oltre 2 milioni di donne in Kenya. Storia sensazionale. Che cosa è successo? In realtà quello che è successo è che è stata avviata dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità una campagna di vaccinazione delle donne in età fertile contro il tetano, perché purtroppo si è visto che al momento del parto molte donne trasmettevano il tetano al neonato, che poi moriva. Soluzione? Vacciniamole. Ma alcuni ricercatori, alcuni medici del Kenya, soprattutto quelli dell'Associazione Cattolica dei Medici, hanno cominciato a dire sì, ma questo in realtà è un piano segreto per sterilizzare le donne del nostro paese. Perché? Perché fate soltanto la vaccinazione antitetanica alle donne? Perché la fate soltanto in età fertile? La risposta sarebbe stata da fare perché gli uomini difficilmente partoriscono e poi soprattutto non partoriscono in età fertile. Però questa storia ha fatto molta presa sulla popolazione, perché abbiamo un'autorità religiosa, abbiamo un'autorità medica che dicono non fate la vaccinazione promossa dall'uomo bianco, perché l'uomo bianco ti vuole sterilizzare, quindi siamo noi in questo caso coinvolti nel pregiudizio. E in realtà la storia è completamente inventata, non c'è uno straccio di prova, del resto basta fare un controllo, basta prendere i dati di popolazione. Se ci fosse stato veramente un calo, una sterilizzazione di massa, avremmo visto un calo della natalità, che non c'è stato assolutamente. Quello che invece abbiamo visto è che per colpa di informazione falsa come questa, sono morti in un anno 500 bambini in Kenya, morti perfettamente evitabili. Quindi pensiamoci un attimo, il ruolo sociale della diffusione dell'informazione è fondamentale e ciascuno di noi nell'inoltrare o decidere di non inoltrare una storia di questo genere può fare una differenza enorme. Il problema però è anche di tipo giornalistico. Vi faccio vedere un paio di esempi di come si lavora in alcune redazioni. Questa è Repubblica. Repubblica fa una di quelle fotogallery che fa molto spesso, la fotogallery è uno strumento a chiappa click. La fotogallery è una cosa dove ci metti due righe di testo, una immagine e quella ti fa un caricamento di pagina, il che significa che quando fanno il conteggio delle pagine dei giornali dici, guarda Repubblica è stata vista 4 milioni di volte, hai visto quante pagine? Per questo la fotogallery è uno strumento molto efficace nel giornalismo digitale. Il problema è con che qualità viene fatta questa fotogallery? Perché se mi presenti delle belle fotografie che mi informano, bene, ottimo, i click te li sei meritati. Ma a volte questo meccanismo si inceppa, come in questo caso. Qui siamo a novembre 2015, viene presentata questa notizia secondo la quale ci sono molte sostanze che possono facilitare il cancro e quindi una di queste sostanze è il PCB, la devo leggere, il policloro bifenile per essere sicuro e che c'entra il policloro bifenile con questo? Non c'entra niente, infatti qui dice i policloro bifenili o PCB composto sintetico ampiamente utilizzato per l'apparecchiatura elettronica in passato e vietato alla fine del 1970 in molti paesi. Ma cosa c'entra un circuito stampato? E qui scatta la mia mente perversa, ma io quando vedo una cosa del genere dico mi puzza, c'è qualcosa che non va, poi comincia a dire aspetta PCB, 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 aspetta ma in inglese come si dice il circuito stampato? Printed circuit board, PCB. Quindi vuoi vedere che il creatore della fotogallery ha detto presto presto ci serve un'illustrazione del PCB, che cos'è? È una sostanza chimica, è andato a prendere il catalogo UPAC, qualcosa di questo genere pertinente all'argomento? No, è andato su Google e ha letteralmente preso la prima cosa che viene fuori quando cerchi PCB su Google, cioè un'immagine di un circuito stampato. Questo è il modo in cui vengono spesso fabbricate le notizie. E questo è un esempio frivolo, vabbè nessuno ci ha morto per una cosa di questo genere, ma provate a immaginare una situazione come questa, anzi non immaginatela, questa è una situazione reale. Qui siamo su SkyTG24, su Twitter, SkyTG24 annuncia, l'ISIS pubblica la foto di un presunto kamikaze responsabile degli attacchi a Parigi, qui siamo un po' di tempo fa, siamo a novembre del 2015 e questa è una foto scioccante, cioè quest'uomo che si fa fotografare con in mano quello che sembra essere un testo sacro, presumiamo un Corano, questa faccia sorridendo, questo giubbetto esplosivo, sono contento di farmi saltare in aria, è una foto molto potente. Viene pubblicata questa fotografia anche da altri siti, per esempio viene pubblicata dal giornale, viene pubblicata da Il Fatto Quotidiano, in questo caso, non Quotidaino, quindi questo è l'attestato originale, ecco uno dei terroristi, l'ISIS pubblica la fotografia di un presunto kamikaze senza nome, dice Il Fatto Quotidiano, però all'interno della notizia leggendo salta fuori che questa è una foto di origine, di fonte garantita, Andrea Casadio del Fatto Quotidiano, dice che gli è arrivata attraverso canali sicuramente attendibili. Cosa fa un giornalista in questo caso? Non solo si preoccupa perché la foto ha qualcosa che non va, si preoccupa ancora di più perché Peter Gomez rituita a sua volta questa fotografia per dire guarda io, direttore della testata, ti dico questa cosa, è potente, la devi sapere. Però quando si comincia a fare questo lavoro si cominciano a imparare un po' i trucchi del mestiere. Cacciatore di bufale ha una serie di grimaldelli, ve ne farò vedere alcuni, che possono essere utili a chiunque voglia fare verifica delle informazioni. Vedo una foto di questo genere e comincio a farmi alcune domande, potete farvele anche voi, per esempio questa fotografia ha un paio di cose che spiccano subito, allora teniamo presente che si tratta di un'immagine riferita a un attentato che si è svolto a Parigi. Ma qui in primo piano ci sono due prese elettriche che non sono francesi, sono americane o canadesi. Che ci fa un terrorista con già indosso il giubbetto esplosivo a farsi una foto negli Stati Uniti o nel Canada quando deve fare l'attentato a Parigi? Mi provo il giubbetto per vedere se ci sta prima del volo? Cioè si è portato ai controlli di sicurezza e dicono sì, tolga la giacca e mi raccomando. Quindi già questo è un elemento che dovrebbe fare insospettire, c'è qualcosa che non va in questa fotografia. La seconda è queste prese sono sospese a mezz'aria, ma no, momento, questa foto è fatta allo specchio. La foto comincia ad avere un senso se dico questo è uno che si è fatto una foto allo specchio, quindi queste prese sono in realtà incassate nello specchio. Bene, risolto il mistero, ma allora la fotocamera che sta facendo la foto dov'è? Non c'è, dovrebbe essere al centro dell'inquadratura, ma al centro dell'inquadratura c'è in realtà un libro. Forse non è un libro, forse è un tablet. Infatti salta fuori che c'è qualcosa che non va in questa foto, c'è un altro elemento che forse richiede un po' più di conoscenza delle varie culture, che è il copricapo che sta indossando quest'uomo, che non è un turbante islamico, ma è un copricapo dei Sikh, che con l'Islam c'entrano poco e nulla. Cosa si fa in un caso come questo? Si spendono ben 30 secondi per prendere la fotografia e andare su un servizio che vi consiglio di mettere nella vostra cartella dei preferiti, si chiama TNAI, TNAI.com, perché ci segue via radio T-I-N-E-Y-E.com, si prende la fotografia, la si manda a questo sito e il sito ti risponde in una frazione di secondo, questa foto l'ho già vista qui, 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 qui e qui e ti do anche la data. È molto potente, ti fa addirittura vedere anche, ecco questa è la registrazione del test che ho fatto, ho caricato questa fotografia e gli ho chiesto fammi vedere quando è comparsa questa fotografia. Il sito è abbastanza intelligente, non solo da trovare le fotografie uguali, ma anche quelle differenti, che hanno delle varianti, per esempio più larga, più stretta, più grande, più piccola, ma soprattutto anche quelle fortemente modificate e infatti a un certo punto salta fuori questa pagina che mi mostra due versioni della stessa fotografia, una molto differente dall'altra e in pochi secondi scopro che c'è un sito che mi spiega questa notizia. C'è un SIC di Toronto, ecco spiegate le prese elettriche, che è stato incastrato per gli attacchi di Parigi da un gruppo di troll, che sono dei giocatori particolarmente violenti, del gruppo Gamergate, che avrebbe tutta una storia che adesso non posso raccontarvi. Questi per vendicarsi di una cosa che lui ha scritto hanno preso un suo selfie fatto in bagno con in mano l'iPad e gli hanno aggiunto il giubbetto, hanno messo la decorazione simil coranica e poi hanno sparso in giro la fotografia. Anche le sopracciglia dici che sono state modificate, sì può darsi, in effetti anche quello è un dettaglio modificato probabilmente. Che cosa è successo? Perché nessun giornalista si è fermato a controllare questa notizia? Questo è un errore tecnico, non è un errore ideologico, c'entra sicuramente il pregiudizio, ma c'entra anche la voglia di fare scoop. Pubblico la notizia e così ottengo un sacco di click. Se spendo tempo a verificarla e poi salta fuori che è falsa, ho perso dei click. In realtà poi ci perdi la faccia quando pubblichi una notizia del genere, però soluzione, questa è un'opera d'arte giornalistica, si fa un secondo articolo in cui ci dice, ehi ragazzi vi stiamo dicendo che è falsa la foto dell'Isis. Andarla a fare subito questa cosa? Non si poteva? Peccato. E questo è un esempio di testata giornalistica. Al di sopra delle testate giornalistiche ci sono anche delle altre cose, ci sono le agenzie di stampa. Le agenzie di stampa sono in teoria la madre di tutte le informazioni, dovrebbero essere quelle più accurate, più precise. Qualche tempo fa ero a Montecitorio, il responsabile dell'Ansa diceva, noi non possiamo permetterci di sbagliare nel giro di otto minuti, le nostre notizie vengono lette da milioni di persone, quindi dobbiamo essere accuratissimi. Ok, sì, accuratissimi. Purtroppo salta fuori che ci sono agenzie che hanno, come dire, un approccio disinvolto verso la realtà. Questa è ADN Kronos, che ha pubblicato questa notizia che è assolutamente imperdibile. Vivere senza cibo, sempre più italiani scoprono il respirianesimo. Sapevatelo, come si dice in questo caso, hashtag sapevatelo, avete perso tempo, avete buttato via un sacco di soldi a mangiare spaghetti e cotica o altre cose che vi piacciono, perché in realtà si può vivere benissimo senza mangiare, basta respirare. E ci sono addirittura gruppi di italiani sempre più numerosi che vivono in questo modo. Com'è possibile che un'agenzia di stampa pubblichi una cosa del genere, che è una bestialità, non so come altro definirla senza offendere varie categorie di animali, ma funziona questa storia per una ragione molto semplice, perché in questo modo tutti la leggeranno, sia quelli che ci credono, sia quelli che indignati la mandano ai loro amici per dire guarda cosa ha scritto ADN Kronos, guarda che boiata. Infatti, che cosa è successo? Quel giorno la classifica, quando è uscito questo articolo, la classifica di ADN Kronos per le notizie più cliccate, vedeva al primo posto proprio questa notizia. Addirittura al di sopra della notizia che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità avrebbe, in realtà non è così, ma avrebbe bollato come cancerogene la carne rossa. Quindi è riuscita a superare addirittura una notizia così drammatica. Poi le altre notizie sono molto interessanti, danno un po' l'idea del tipo di interesse che viene stimolato dalle agenzie di stampa. Al terzo posto Pitbull da combattimento viene accarezzato per la prima volta, una di quelle cose che vi cambierà la vita, ho bisogno di saperlo. Oggi sono stati accarezzati dei Pitbull? No, bisogna fare qualcosa. Oppure quarto posto è Nibiru stanno arrivando, l'oggetto nel cielo che annuncia l'apocalisse, l'apocalisse funziona sempre. Questi sono titoli classici a chiappa click. Purtroppo questo è un fenomeno diffusissimo perché è premiante. Le agenzie di stampa e le testate giornalistiche con la trasformazione verso il digitale stanno scoprendo, anzi l'hanno scoperto da tempo, questo fenomeno che va sotto il termine inglese di clickbait. Cioè ti pubblico un articolo che ti invoglia a cliccarci sopra, ti pubblico un qualcosa che ti stuzzica. Vi faccio vedere un recente capolavoro di giornalismo di una grandissima testata che è il Corriere della Sera che ha deciso di prendere i suoi 150 anni di onorata carriera e decidere che quando vuole fare soldi questo è il contenuto di alta qualità che deve proporre. Lato B in mostra è panorami mozzafiato, ecco cheeky exploits, l'ultima tendenza eccetera eccetera. Cioè questo è uno strillo del Corriere della Sera su Twitter con un grazioso posteriore, per carità niente di male, però è veramente necessario che del buon giornalismo si abbassi a questi livelli? Non lo so, a me dispiace, ovviamente poi molti di noi hanno segnalato questa scivolata, questa caduta di stile, il Corriere ha tolto questo tweet, però vuol dire che si sta rischiando veramente il fondo del barile, perché significa che si stanno disperatamente attirando dei click, come mai? Giornalisticamente è interessante chiedersi perché il giornalismo è scivolato a queste cose e questo è un grafico purtroppo eloquentissimo che dice perché siamo arrivati a questa condizione. Il mercato della pubblicità che in gran parte finanzia il giornalismo si è spostato negli ultimi anni sempre più dalla carta stampata, dalla televisione, dalla radio, verso internet, ma specificamente verso due nomi, Google e Facebook. Quindi non c'è più trippa per gatti, il giornalismo annaspa perché tutti i soldi stanno andando verso terzi, grandi operatori, che guadagnano dai click intermedi, cioè il giornale spende per fare la notizia, Facebook prende la notizia, ne fa da tramite e incassa su quello, perché attraverso il vostro uso di Facebook venite profilati, la profilazione permette di avere pubblicità mirata per sapere esattamente quali sono i vostri interessi, i vostri gusti, la vostra fascia di reddito, Facebook conosce il vostro reddito catastale, ha una buona idea di quanto guadagnate nella vostra vita, sia che dichiareate o meno, perché hanno dei sistemi di stima molto sofisticati. Quindi questo è il motivo per cui esiste tutta questa serie di problemi. Cosa possiamo fare in questo senso? Facciamoci più furbi, cominciamo a scoprire come funziona questo mondo del giornalismo, giusto per fare un esempio di come si lavora qua e là. Molta gente dice, ma questo che hai fatto vedere è un problema del giornalismo online, le testate cartacee sono più serie. proviamoci. Questo è il giornale, ok, forse per molti non sarà una testata cartacee delle più sublimi, però è una testata registrata in tribunale, quindi è giornalismo. La corte europea dice, il giornale ci vieta di battezzare i nostri figli, intera pagina dedicata a questa cosa. Questo è su carta, non è la notiziola pubblicata online. C'è anche la versione online che trovate qui e salta fuori questa notizia scioccante, poi non è vero niente, anzi andando a leggere il testo dell'articolo, prendendo alcuni pezzi di questo testo e mettendoli in Google salta fuori che sono copiati da Wikipedia e questo è già interessante. Poi salta fuori che andando a cercare i dettagli non c'è nessuna legge di questo genere. Qual è la fonte di questa notizia? Basta cercarne le parole chiave e salta fuori che è il giornale del Corriere. Quindi il giornale.it ha copiato da un sito bufalaro, non ha fatto nessun controllo, ha pubblicato su carta una notizia che può spostare i pregiudizi nei confronti dell'Europa non di poco. Quando un giornalista segnala, in questo caso sono io, colpa mia, quando un giornalista segnala una notizia di questo genere potreste aspettarvi una reazione, come dire, da deontologia. Ok, capita a tutti di sbagliare, abbiamo sbagliato, correggiamo la notizia. Su carta non si può, online possiamo mettere una rettifica. La soluzione del giornale è stata questa. Pagina non trovata. L'articolo non è mai esistito. Qui siamo proprio al 404 not found in stile più orwelliano che possiate immaginare. Per cui anche qui c'è un problema di richiamo all'ordine dei giornalisti. Recentemente se ne è parlato anche con i direttori dei giornali, molti non hanno ancora preso l'abitudine di pubblicare le correzioni. C'è ancora questo pregiudizio di dire, ma se io pubblico la correzione faccio la figura di quello che ha sbagliato. Quindi cade la mia credibilità. Ma se invece pubblichi una bufala e non la correggi quanto cade la tua credibilità. Anche questo secondo me è un interrogativo da porci. Poi c'è un altro fenomeno ancora che a me è intristito molto, soprattutto in questi giorni. Questa è freschissima. E di ieri tutti avete sentito dell'attacco informatico, questo WannaCry che sta facendo grosse devastazioni, è un problema serio, poteva essere risolto semplicemente aggiornando Windows, ma fa niente. Quello che è interessante è come l'hanno gestita molti giornali. Qui abbiamo ilgiornale.it, qui abbiamo il fatto quotidiano e qui abbiamo Repubblica. Sono tre articoli che parlano dello stesso tema. Stranamente tutti e tre parlano specificamente di un'azienda che avrebbe prodotto un software che sta contrastando questo attacco. Chi ha seguito bene la vicenda sa benissimo che non c'entra niente un'azienda italiana o un'azienda singola, l'attacco è stato risolto con un'altra tecnica, almeno temporaneamente, ma la cosa interessante è che tutti e tre gli articoli contengono esattamente le stesse frasi. Cioè in particolare questa frase, il primo software anti-ransomware creato per contrastare anche le più recenti evoluzioni dei malware, è uguale in tutti e tre gli articoli. Ora, gli amici del CICAP potrebbero dire abbiamo finalmente le prove della telepatia fra le redazioni. Quelli meno inclini a pensare a fenomeni paranormali potrebbero dire hanno copiato tutti dalla stessa fonte. Questo lo lascio a voi da valutare. Però a me dispiace che questo giornalismo finisca per somigliare moltissimo al copia e incolla di un comunicato stampa, di cui fra l'altro non c'è nessuna verifica dei fatti. Cioè mi mandi un comunicato stampa? Ok, ma se non mi sai neanche scrivere bitcoin, forse non mi devo fidare di te. Se scrivi bit e separato coin, forse abbiamo un problema. Se mi scrivi che la società telefonica spagnola Telco è stata colpita dall'attacco e non sai che Telco è semplicemente un termine generico per indicare compagnia telefonica, vuol dire che non sai di che cosa stai scrivendo. Quindi io come lettore, come utente, non come giornalista, ma proprio come lettore comune, come mi posso fidare di un giornalismo fatto in questo modo. Allora io ho una serie di consigli che vi riassumo in questi ultimi minuti. Primo, fatevi furbi, attrezzatevi, avete internet dalla vostra parte, internet non è il nemico, internet è un grosso potere che abbiamo tutti nelle nostre mani. Ci sono elenchi pubblici di siti notoriamente bufalari. Se vedete che una notizia arriva da uno di questi siti potete tranquillamente cestinarla, ditelo ai vostri amici, chi semina bufale avvelena anche te, digli di smettere. E vedete che si gioca moltissimo sulle assonanze e anche a volte sui giochi di parole, il fallo quotidiano devo dire che è notevole come scelta, ma anche repubblica non è male, gli strafatti quotidiani anche quello non manca come qualità. Se vi interessa trovate questo elenco, elenco periodicamente aggiornato presso tinyurl.com slash bufalari e se vi interessa ci sono, lo stesso fenomeno esiste anche negli altri paesi e questa è una cosa internazionale e quindi anche qui se vedete che la notizia originale è stata pubblicata su siti di questo genere sapete come regolarvi. E questo è un primo indicatore, un altro che vi consiglio di sentire i siti antibufala perché ci sono tanti ricercatori in tutti i paesi che soprattutto adesso si stanno adoperando per verificare la qualità delle notizie. In alcuni casi si può fare in modo scientifico, cioè la notizia, un'affermazione o è stata detta o non è stata detta, non è che si può dire sì o no forse, l'ha detta o non l'ha detta, questa cosa è successa o non è successa e quindi sempre più sono i siti di cosiddetto fact checking, provate a consultarli. Oggi ci sono degli strumenti meravigliosi, ci sono organizzazioni come Full Fact, come pointer.org, c'è una rete internazionale di fact checker, IFCN che sta lavorando per verificare la qualità media delle attestate giornalistiche per dire guarda questa è una attestata che funziona bene, che lavora professionalmente, sbaglierà perché gli inciampi li facciamo tutti, ma sa correggere gli errori, ha una politica di gestione degli errori, ha un modo facile per essere contattata per le rettifiche e via dicendo. E poi vi consiglio quattro strumenti veloci, come dire, una piccola lista della spesa di cose da fare. Quando volete indagare su qualche cosa, lo so che magari non avete voglia di indagare, per questo ci sono i fact checker, se volete potete delegare a loro, ma se vi va di indagare autonomamente, magari perché avete una conoscenza specifica in un certo settore, qui sicuramente se sui giornali domani esce una notizia di informatica storica, qui abbiamo di che farli a fette, ma ci sono alcuni strumenti, alcune regole che io consiglio in qualunque campo. La prima è la cosiddetta legge di Sagan, Carl Sagan, astrofisico, l'ha detta molto elegantemente, lui diceva l'affermazione straordinaria richiedono prove straordinarie, io la dico un po' più, terra a terra, più la spari grossa, più me la devi documentare. Cioè se mi dici che hai parcheggiato in doppia fila qui fuori, ti posso credere sulla parola, ma se dici che qui fuori hai parcheggiato in doppia fila un drago invisibile, scusa, ma voglio le prove. Quindi anche questo è un primo criterio, una notizia straordinaria deve avere delle prove straordinarie, se un giornale pubblica che un certo Andrea Rossi ha inventato una macchina che genera energia dal nulla e che risolverà tutti i nostri problemi, devo chiedere delle prove robuste, non devo fidarmi perché è uscito sul giornale, devo chiedere le prove di quello che è stato effettivamente dimostrato. Scelgo anche la qualità e l'interesse delle fonti, c'è questa regola che si chiama Principi di Belzebù, secondo la quale la fonte di notizia è più attendibile se da quella notizia ha una perdita. Cioè se il governo di un paese vi dice va tutto benissimo, siamo a posto così, l'economia prospera, probabilmente vi sta prendendo in giro. Se un governo vi dice l'economia va malissimo, abbiamo dei problemi, preparatevi lacrime e sangue, probabilmente ha ragione, anche se per la semplice ragione che elettoralmente dare questo genere di cattiva notizia non è molto vantaggioso. Regola dell'informazione laterale, cercate sempre una via non diretta per le informazioni, per esempio come fanno gli storici a sapere come sono andate realmente le cose, perché la storia la raccontano i vincitori, che sono ovviamente di parte, è raro che i perdenti abbiano occasione di spiegare la loro versione dei fatti, si fa informazione laterale. Cioè se vuoi sapere quanti elefanti portava Annivale, quanti soldati hanno partecipato a una certa battaglia, non lo chiedi al generale, non lo chiedi al vate che poi racconta la storia per i posteri, vai a vedere la contabilità, quanti stipendi, quanti sesterzi sono stati spesi e via dicendo. E in questo modo attraverso le fonti indirette si riescono a trovare fatti assolutamente affascinanti. E poi c'è purtroppo questo principio che ha un nome un po' scurrile, principio della montagna di M, inventarsi una bufala richiede pochissimo sforzo, fare un'indagine seria costa fatica. Tenete presente che sarà sempre così, il lavoro di debunking, di fact checking, di verifica, sarà sempre in perdita come investimento rispetto al bufalaro, perché fare un sito di Fandone richiede pochissima fatica, ma verificare una storia puntigliosamente, pedantemente, precisamente e magari farlo anche in modo giornalisticamente interessante richiede una fatica enorme. Per cui con questi elementi fondamentali si riesce a fare tanto, veramente tanto. E io chiudo con giusto una riflessione finale su quali possono essere le cose da fare a questo punto, perché abbiamo visto una situazione decisamente poco rosea. Allora, prima di tutto, togliamoci dalla testa cose come l'idea della censura. Io sto lavorando con la Camera dei Deputati per cercare di spiegare, guarda, che se qualcuno propone un disegno di legge che va nella direzione di censurare internet, di oscurare siti, non avete capito niente di come funziona internet. Internet aggirerà il vostro problema, interpretandolo come un ostacolo nella comunicazione, quindi vi farete un grosso autogol, farete la figura dei censori. Per fortuna il progetto Basta Bufale, che è stato proposto dalla Presidenza della Camera, sta andando nella direzione giusta, con un po' di reazioni non sempre composte e coordinate, però ci si sta lavorando. Possiamo quindi lasciar perdere l'idea della censura? Quello che dobbiamo chiedere è correttezza, rigore alle fonti alle quali ci abbeveriamo. Che siano i nostri amici, gli chiediamo, ma tu hai le prove di quello che stai dicendo? Per esempio, oggi sta girando questa notizia secondo la quale c'è un uomo che è stato additato su Facebook come pedofilo, non è vero niente, ma tutti stanno inoltrando su Facebook e Whatsapp la notizia di quest'uomo che sarebbe un pedofilo. Sono andati, qualcuno ci ha creduto talmente tanto da andare a scrivergli pedofilo con la bomboletta spray sul suo bar. E questo è il tipo di libera comunicazione che vogliamo? Nessuno dice di imbrigliare la comunicazione, per l'amor del cielo, però magari fermarsi un attimo a verificare prima di inoltrare potrebbe fare una grandissima differenza. Magari semplicemente avere un bollino che ti dice, guarda che questa notizia, controllala un attimo, potrebbe essere falsa. Noi abbiamo in mano un grosso strumento, che è quello dei portafogli. Possiamo usarlo in due modi. Il primo è utilizzare un ad blocker, cioè un software che blocca la visualizzazione delle pubblicità nei siti, salvo quelli che noi riteniamo attendibili. In questo modo l'inserzionista non paga i bufalari. E noi non possiamo involontariamente finire per dare dei soldi ai bufalari. L'altro è invitare gli inserzionisti a non fare pubblicità nei siti che diffondono bufale. Molti dei pubblicitari non lo sanno, scusate, molte delle organizzazioni, molte delle aziende non sanno che stanno facendo pubblicità nei siti dei bufalari, perché hanno delegato questo compito a un'agenzia pubblicitaria, che manda in giro il codice delle pubblicità senza saperlo. Risultato, se lo dite, come sta facendo una campagna europea che si chiama Sleeping Giants, in ogni paese c'è una filiale, ce n'è anche una in Italia, e sta dicendo ma voi lo sapete che state facendo pubblicità presso Breitbart o presso altri siti dedicati all'odio e alle bufale? E le aziende dicono ma noi non lo sapevamo, togliamo subito il contratto. Quindi in questo modo viene tolto l'ossigeno ai siti bufalari che lo fanno soltanto per guadagnare soldi. Quindi internet è il nostro antidoto, oltre che in parte alla causa del problema. Un altro passo che si sta facendo è cominciare a dire nelle scuole facciamo educazione senso critico, leggiamo il giornale, leggiamo le notizie anche online e vediamo che cosa riusciamo a capire con la nostra testa e con gli strumenti che ci dà l'educazione scolastica. Un altro approccio fondamentale è quello di guardare le cose scientificamente, non soltanto nelle notizie di scienza, ma anche nel campo dell'informazione generale. Ci sono alcuni sistemi di analisi delle notizie che funzionano a prescindere dall'ambito della notizia. Insomma questa è la situazione, disperata, seria, ma risolvibile se ci rimbocchiamo tutte le mani, tutti quanti le maniche e ci diamo da fare. Grazie della vostra attenzione. Grazie